In un settore che convive fra crisi ed emergenze come quello della produzione agricola, innovazione e digitalizzazione delle piccole e medie imprese possono essere determinanti per il futuro della filiera biologica delle Marche. Ma in questo senso il progetto si riparte sistemi digitali rapidi, innovative e partecipati presentato nei giorni scorsi al ristorante Il Torchio di Montefelcino. Un convegno è rientrato nell'ambito del PSR Marche per la sostenibilità dell'agricoltura che ha messo a turno lo stesso progetto il Consorzio Marche Biologiche, la Cooperativa Montebello, l'Università Politecnica delle Marche come partner scientifico e Apravar Group Company come partner tecnologico. Un progetto rivolto alla digitalizzazione delle piccole e medie aziende agricole che hanno aderito alla filiera dei seminativi biologici. È un progetto strategico soprattutto in un contesto come quello attuale dove abbiamo bisogno di come dire migliorare, efficientare la filiera dei seminativi biologici e diciamo crediamo che la digitalizzazione sia accompagnata con dei servizi di consulenza adeguati sia uno strumento come dire strategico per cercare di come dire efficientare la filiera, abbassare i costi di produzione, migliorare anche le performance ambientali. Sappiamo che il contesto diciamo attuale dell'agricoltura è molto critica, in questi ultimi anni i costi di produzione sono aumentati, le rese purtroppo complici anche i cambiamenti climatici in questi ultimi due anni sono state anche rese basse sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Il mercato stenta a riconoscere quel valore aggiunto che come produttori biologici abbiamo quindi investire come dire sull'innovazione è come dire una scelta molto importante per cercare appunto di migliorare la nostra organizzazione, efficientare la filiera e fare in modo quindi di valorizzare ulteriormente le nostre produzioni cercando di recuperare diciamo nella competitività un elemento strategico della nostra produzione. Nel progetto si riparte e proviamo ad interare delle nuove tecnologie applicandole a quelli che sono gli attrezzi e i trattori non recenti. I trattori recenti e attrezzi recenti sono ovviamente dotati di connettività cosa che invece non hanno i trattori e attrezzi di tanti anni fa. Quindi quello che proviamo a fare è installare dei dispositivi che ci consentono di comprendere in tempo reale quello che sta facendo un trattore, magari un trattore cingolato che ha 30 anni però grazie a questi dispositivi riusciamo a capire dove si trova il trattore e che tipologia di attrezzo è collegato. Questo è importante perché consente di fornire una serie di dati che possono essere inseriti all'interno del registro di campagna semplificando tutte le operazioni di inserimento dati e predisposizione del registro volta a creare una filiera in cui il tracciamento dei dati e delle operazioni venga fatta utilizzando ovviamente l'operatore ma anche la tecnologia che ci consente di ridurre il tempo per inserire i dati. Il tema della digitalizzazione ha tuttavia delle problematiche. In Italia soprattutto se consideriamo i dati strutturali che ci provengono dall'Istat vediamo come sono parecchie le aziende agricole di piccole dimensioni. Diciamo che oltre il 50% sono aziende con una superficie inferiore a 3 ettari e se andiamo a guardare invece l'età degli imprenditori agricoli essi stessi hanno una media molto alta. Sono più del 60% le aziende con un'età maggiore ai 60 anni. Questo crea una distanza ovvia dal punto di vista della digitalizzazione per le imprese agricole. Nel nostro progetto i primi risultati del nostro progetto si riparte che è in collaborazione con la Regione Marche e con il consorzio Montebello insieme ad APRA. Abbiamo tuttavia riscontrato che non è solo un problema di etana grafica quindi di questione legata al fatto di essere o meno nativi digitali o alla dimensione aziendale. Ci sono diversi fattori che possono contribuire all'adozione di tecnologie digitali in agricoltura e quindi che migliorano la sostenibilità della filiera. Quindi i sistemi digitali devono essere resi alle aziende in maniera molto semplice quindi devono essere semplici da adottare e devono essere fruibili da parte delle aziende e devono ovviamente essere anche accettati dal punto di vista sociale.